ciak si gira tanta maglia per tutti ragazzi mr black e mischio oggi ragazzi vi facciamo vedere come eliminare la nebbia all'interno di transit che dici mischio che dici di qualcosa che è molto utile per farsi un giretto alla vacca per la mappa vai vai innanzitutto dobbiamo andare sul cinema adesso vediamo tutti i passi tutti i passaggi quindi si può fare solo ed esclusivamente sul cinema allora vediamo il caricamento attendiamo il caricamento troviamo dei dei nuovi misteri nuove cose il caricamento bene partiamo a nastro allora comandi tu finca arriviamo andiamo avanti andiamo a nastro adesso segui il tuo personaggio che siamo a posto arriviamo all'interfaccia forse lascela dopo quando potrò vedere bene in passaggio esatto arriviamo all'elettricità quindi mandata avanti fino ad arrivare alla stanza del degeneratore guarda che ci siamo quasi andiamo un po in fattoria ok al volo che casino ste vocine ste vocine facciamo la torre facciamo la torre oh eccoci arrivati adesso andiamo giù apriamo la porta andiamo giù ok qui i pezzi che non si vieno guardiamo vai 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 intorno una volta arrivati qua ecco in questa posizione lasciamo lasciamo in pausa schiacciamo due volte triangolo e ci comparirà modalità libera noi schiacciamo aspetta aspetta bisogna che lo faccio io allora se lo fai tu che esatto allora spingiamo triangolo triangolo r1 r1 si è passata a visuale dolly ma non ha impostato alcuni indicatori per farlo ci andiamo perfetto diamo ok adesso modalità libera quindi ancora r1 usciamo da qui dentro dalla stanza del generatore e andiamo fuori come potete vedere eccolo qua guardate che figata pazzesca ops vado sopra ecco qua non c'è più la nebbia eccola qua eccola qua ragazzi potere assoluto immenso proprio immenso guardate che super power fantastico 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 tutto senza nebbia mamma mia che potere guardate che roba la la questo fatelo molto velocemente perché potrebbe dare fake error quindi sbrigatevi a farlo funziona sempre vi ricordo triangolo triangolo r1 r1 messaggio di che vi avvisa che la visuale dolly non è attiva e ancora r1 dato che ancora r1 ed eccoci qua guardate che figata è anche più figo di quando mi sono trovato da solo che mi ha dato l'errore guardate che roba mamma mia corriamo corriamo registriamo tutto potete farlo ah ovviamente abbiamo visto il mischio non funziona in due infatti prima sono uscito dalla stanza perché in due non funziona dovete accedere dal cinema singolarmente quindi provate da soli da soli riesce sempre al 110% funziona e che dire guardate che figata che spettacolo e niente quindi non scrivete e a me non mi funziona tanto se eravate in due se in due non funziona raga c'è poco da fare provate da soli qua ovviamente non c'è nessun dispositivo per inserire nav card a posto io vi saluto e ringrazio ancora mischio anzi adesso torno torno da lui e faccio fare un saluto anche a lui visto che ringraziate lui che ha scoperto lui questa cosa raga un bel mi piace e tanta mania per tutti ciao a tutti raga